un consiglio ben ritrovati a tutti sulle frequenze della nostra cara radio per una puntata di De Maria Nunquansatis ricorderemo che abbiamo iniziato il discorso la volta scorsa su Maria Santissima Mediatrice di Grazia quindi introducendo questo secondo titolo mariano titolo vedremo oggi proveniente ampiamente dalla tradizione abbiamo la volta scorsa anzitutto approfondito la tematica della mediazione potremmo chiamarla come forma strutturale fondante con il rapporto che si ha con Dio fin dall'antico testamento poi con il nuovo testamento passando per nostro signore Gesù Cristo che è l'unico mediatore intendendo con questa espressione come il mediatore necessario e indispensabile ma non come l'unico in senso esclusivo perché se Gesù Cristo fosse in assoluto l'unico mediatore abbiamo visto sarebbe l'unico nel senso di solo lui e nessun altro sarebbe distrutta anche la mediazione ecclesiale e sacramentale cosa che poi tra l'altro storicamente è stato così diciamo così ritenuto in ambito della riforma protestante quindi il rapporto con Dio diventerebbe solo un fatto privato intimistico esclusivo e personale tra la singola persona e l'altissimo ma questa modalità diciamo così di approccio è del tutta estranea alla rivelazione a quella che è quello che il signore ci ha fatto conoscere in merito abbiamo poi concluso leggendo eccomi riservandosi nel commento ad oggi quell'altro passo fondamentale della lumen gentium a proposito della corretensione abbiamo visto il numero 61 proposito della mediazione il testo di riferimento fondamentale numero 60 quello che introduce il tema della mediazione mariana peraltro dobbiamo sapere forse oggi forse la prossima puntata vediamo un po come vanno le cose ma è assolutamente necessario farvi riferimento e di che esiste nel nuovo messale delle messe in onore della della madonna nuovo nel senso che il messale per le messe in onore della madonna è esito della riforma liturgica della messa dove ci sono ben 46 se non ricordo male messe in onore della madonna tra l'altro una più bella dell'altra veramente in nella raccolta è contenuta una messa stupenda bellissima in onore di maria vergine proprio madre e mediatrice di grazia quindi esattamente il titolo che stiamo contemplando e quindi sarà cosa molto opportuna si andare a leggere insieme i testi si chiamano così eucologici della santa messa in onore di maria mediatrice di grazia perché perché c'è un antichissimo adagio nella teologia che è l'ex orandi leggem credendi statuat cioè da come la chiesa prega nella liturgia tu capisci quello in cui crede e le messe in onore della madonna sono veramente uno spettacolo io penso insomma chi lo sa se le suole sono sono da qua mi avviso un campo veramente importante di 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 catechesi e sarebbe proprio andare a leggere una per una queste sante messe in onore della madonna e vedere quanto sono belle le cose che dicono di maria santissima perché tra l'altro sono raccolte in tempi liturgici differenziati sono messe adatte al tempo d'avvento messe adatte al tempo di natale al tempo di quaresima al tempo di pasqua e al tempo ordinario quelle in tempo ordinario sono poi ulteriormente racchiuse in messe teologiche oppure messe che ricordano alcuni titoli mariani o alcune litanie lauretane tipo fonte della salvezza tipo non lo so arca dell'alleanza rifugio dei peccatori veramente sono bellissime e chiaramente sono fonte di grandissima conoscenza perché ripeto la legge con cui la chiesa prega quindi quando viene scritto un testo di preghiera nella liturgia ecco perché è assolutamente fondamentale è c'è l'espressione proprio viva perché dentro la liturgia non entrano cose che non siano assolutamente sante ortodosse questa è una cosa antichissima tra l'altro è uno degli argomenti più forti e più convincenti verso tutti i maria scettici chiamiamoli così che hanno un pochino di paura ecco io personalmente guardate dico vedendo questa raccolta di messe mariane veramente ne sono estasiato insomma cioè per le persone che amano la madonna poter celebrare una messa o assistere ad una messa di questo genere con attenzione è veramente tanta roba siccome si sta la messa in onore di maria mediatrice sicuramente bisognerà andare a leggere qualcosa e molte delle cose da dire su questo tema le troveremo nella messa stessa tra l'altro ognuna di queste messe ha una presentazione d'accordo cioè c'è il messale dove c'è la messa c'è il lezionario dove se uno vuole farci le letture proprie ci sono le letture adatte alla singola messa e poi c'è la presentazione quindi da dove viene questa messa come è stata fatta che significa che è un commento appunto della messa e di ciò che rappresenta attraverso come dire una un rapido escursus appunto sui testi perdonate la parola che si chiamano tecnicamente eucologici cioè sulle varie preghiere che vengono fatte l'antifoma d'ingresso l'antifoma di comunione l'orazione colletta l'orazione sulle offerte l'orazione dopo la comunione e soprattutto il prefazio i prefazzi di queste messe in onore della madonna sono veramente alcuni proprio spettacolari bellissimi che fanno proprio emergere stagliano una figura bellissima della della madonna incrementano fortissimamente l'amore la devozione e la riverenza verso verso di lei sono davvero dei piccoli capolavori quindi detto questo dobbiamo riprendere dove ci siamo fermati la volta scorsa quindi rileggiamo il numero 60 della Lumen Gentium che è un po' il testo normativo fondante per antonomasia del capitolo della mediazione mariana lo commentiamo e poi eventualmente passiamo subito o quando dio vorrà alla messa in onore di maria mediatrice di grazia riprendo la lettura del numero 60 uno solo è il nostro mediatore secondo le parole dell'apostolo non vi è che un solo dio e un solo mediatore tra dio e gli uomini l'uomo cristo gesù che ha dato se stesso in riscatto per tutti ora la funzione materna di maria verso gli uomini non oscura né in alcun modo sminuisce l'unica mediazione di cristo ma ne mostra piuttosto l'efficacia infatti ogni influsso salvifico della beata vergine sugli uomini non deriva da ragioni di necessità ma dal beneplacito di dio sgorga dai meriti sovrabbondanti di cristo si fonda sulla sua mediazione e da essa totalmente dipende attingendone l'intera sua efficacia e nemmeno impedisce il contatto immediato dei credenti con cristo ma anzi lo favorisce questo paragrafo figlioli miei cari diceva dondolindo è uno spettacolo è veramente bellissimo adesso lo andremo piano piano a centellinare la prima parte l'abbiamo approfondita nella puntata precedente per cui non occorre ulteriormente spendere ulteriori parole uno solo è il mediatore tra dio e gli uomini l'uomo Cristo Gesù c'è una citazione della prima lettera a timoteo capitolo secondo versetti 5 e 6 quindi il che significa che il rapporto con dio è necessariamente anche mediato non soltanto mediato perché c'è anche la dimensione personale interiore del rapporto con dio ma questa non può prescindere dalla basilare fondante mediazione vorrei spendere ancora mezza parola su questo qui forse sarebbe anche il caso di spenderne una perché capite noi dobbiamo sempre pensare figlioli miei cari che dio è intelligente don donardo ha scoperto l'america ha detto che dio è intelligente donardo non ha scoperto l'america però come ci comportiamo delle volte noi sembriamo trattare dio come se fosse uno sciocco perché è così importante la mediazione perché se io me ne esco di testa e comincio a pensare che quello che mi frulla per la testa che il mio rapporto con gesù e con dio sia chissà che io chissà che cosa e svalvolo ma chi me la dice a me che io ho svalvolato me lo dicono le figure di mediazione chi me lo dice? me lo dice la chiesa? me lo dice capite? la chiesa che pure la chiesa è le istituzioni della chiesa la gerarchia della chiesa il magistero della chiesa che pur con tutte quante le problematiche a cui ha dato vita perché purtroppo la chiesa è una realtà divina ma è fatta di uomini e quando ci mettete in mezzo gli uomini la perfezione assoluta non esiste d'accordo? quindi devi mettere in conto delle cose però è stata un barguardo è stata una salvaguardia e lo è tuttora come faccio io a capire se me ne sto uscendo fuori di testa? quando esco dalla comunione con la chiesa non c'è capito? non c'è che... e attenzione sulla base di questo principio ripeto senza mortificare la dimensione personale interiore tutto quello che noi vogliamo che anzi è da riscoprire è fondamentalissima io ne parlo in continuazione nelle catechesi nelle meditazioni che anche mi metto in pubblico il rapporto personale con Gesù e con Maria ma attenzione è sempre dentro questo alvio perché non è che io mi alzo la mattina e dico ah Gesù nella preghiera mi ha detto di fare questo e io lo faccio e magari questo è una cosa che sballa completamente capite? cioè completamente fuori cioè che non c'è la ragione di essere che è una cosa che è contraria al magistero della chiesa alla vita della chiesa alla legge della chiesa ai comandamenti di Dio perché me l'ha detto Gesù nella preghiera ma che ti ha detto Gesù? non è capite? cioè c'è bisogno di una garanzia c'è bisogno di una sicurezza c'è bisogno di una salvaguardia capite? perché per esempio la chiesa è sempre facciamo il caso delle apparizioni mariane no? io ho scritto un libretto ma nel libretto che ho scritto io volutamente ho trattato le apparizioni mariane riconosciute dalla chiesa perché? non è che un'apparizione non riconosciuta uno non la possa leggere d'accordo? o non ci possa credere d'accordo? ma capite? quando si tratta di queste cose è io spero che si capisca il senso che sto dicendo è meno peggio che la chiesa non riconosca ufficialmente un'apparizione vera piuttosto che riconosca un'apparizione falsa capite? e quando io sto nell'ambito di un'apparizione non riconosciuta devo averci piedi sempre di piombo non gli posso non gli posso e non gli devo dare un credito cento per cento ma questo non è modificazione per cui cioè alla chiesa non gliene importa niente capito? agli uomini di chiesa ma neanche a me è un problema di salvaguardia di custodia tua perché si entra in un ambito minato pericoloso che può essere fuoriero di grande bene se viene dal cielo ma se fosse una mistificazione capite? il diavolo è furbo non è che ti presenta un'apparizione grossolana così dove la Madonna dice che ne so andate la butta a fi non pregate più che tanto non serve pregare ma no d'accordo è un'apparizione falsa il diavolo la farà di tutto per accreditarla quindi in vista del suo obiettivo d'accordo ti dirà ti dirà ti dirà tutto quello che ti pare ci sono dei casi famosi di queste qua adesso non ne voglio parlare in trasmissione insomma perché è brutto delle cose brutte è meglio non parlarne quindi però è già successo lui fa tutta quanta la tela la trama tu abbocchi e poi quando è ora ad abboccare puffete ci mette quella cosa fuorviante che tu che sei andato appresso all'apparizione non riconosciuta gli dai credito eccessivo e te ne caschi insieme a lui capito chi è che ti da che ti assicura che ti dà la garanzia è la chiesa la dobbiamo rimetterci in ginocchio e dobbiamo ringraziare che ci sta pur con tutte le sue imperfezioni pur con tutte le sue miserie pur con tutta la limitatezza possibile umana di alcuni suoi membri compresi i membri della gerarchia d'accordo e questo è come dire garantito bloccato cioè capite questa funzione non può cessare qualunque cosa accade accada perché se Gesù permettesse che accadesse una debracca del genere siamo morti non esiste più mezzo di difesa saremmo consegnati in balia dei nostri avversari che sono i diavoli senza possibilità di salvezza se invece così siamo sempre salvi perché nel dubbio che diceva San Giovanni Paolo II quando qualcuno diceva perché confusione in piano dottrinale teologico non era novità di gente che ogni tanto ne spara qualcuna grossa sono quasi cent'anni veramente per chi studia la teologia che hanno cominciato a spararle grosse prima hanno cominciato in ambito protestante e poi hanno cominciato ad andare in ambito cattolico insomma e io come faccio a sapere che qualcuno l'ha sparata grossa vado a parlare con un predo uno mi dice quello ha detto bene uno mi dice quello mi ha detto male e quello altro mi dice non lo so come faccio? apri il catechismo della chiesa cattolica diceva San Giovanni Paolo apri il catechismo della chiesa cattolica qual è l'argomento? è questo guarda qual è la dottrina della chiesa su questo se vuoi stare tranquillo fidate il catechismo se vuoi stare non tranquillo pensa ad altro quindi capite ma anche il rapporto con Dio attraverso i mediatori no? Gesù Cristo era una persona carne ed ossa capito? non è semplicemente Dio che se ne sta in cielo o che è come dire in qualche modo capite? c'è il rapporto con Dio anche il rapporto non è che Dio dice Dio me parla ma Dio non parla come sto parlando io adesso Dio parla nel mistero Dio parla nel silenzio Dio parla nel cuore capite? attraverso frequenze attraverso frequenze del tutto peculiari poi bisogna vedere se Dio ha parlato veramente se io ho capito veramente se io ho capito ci sono tante e come faccio a orizzontarmi? ecco l'importanza della mediazione ora abbiamo la funzione materna di Maria attenzione guardate che bello la mediazione mariana e qui dobbiamo aprire una parentesi dove è fondata? sulla funzione materna di Maria fondamentale e infatti la Vergine la Messina della Madonna si chiama Maria Vergine madre e mediatrice di Grazia la novella festa una novella perché resa di Maria madre della Chiesa è importantissima per comprendere la funzione mediatrice di Maria vedete prima ancora di parlare della mediazione la funzione materna di Maria non oscura né in alcun modo sminuisce l'unica meditazione di Cristo allora funzione materna di Maria allora cosa vuol dire mediatore l'abbiamo visto l'olta scorsa nel mediatore perché Gesù Cristo è il mediatore tra noi gli uomini perché attraverso la sua umanità giunge a noi la salvezza divina giunge a noi la parola di Dio d'accordo? quindi ecco e lui stesso a nome di rappresentante dell'umanità porta l'umanità al Signore ora la Madonna è senza nessun dubbio l'abbiamo visto la madre di Gesù la madre di Cristo la madre di Dio meglio ancora sarebbe chiamarla ma è solo madre di Dio e madre di Gesù o è anche madre nostra punto interrogativo questo l'abbiamo visto anche a proposito della corredenzione quando abbiamo dato lettura interpretazione corretta delle doglie delle grida di questa donna incinta vestita di sola ma incinta che grida per le doglie e i travagli del parto il parto di chi? il parto nostro che è un parto doloroso allora la Madonna è la madre naturale di Gesù questo si deve dire senza nessunissimo problema perché Gesù ha un padre naturale che è padre padre per quanto riguarda il suo essere Dio che è il padre eterno e ha una madre naturale per quanto riguarda il suo essere uomo che è Maria Santissima madre naturale giusto? benissimo ora Dio padre oltre al figlio naturale che ce n'ha uno solo tra l'altro il termine greco è uios per far comprendere la differenza e Gesù in Evangelia si chiama oios to te u tu te u d'accordo quindi il figlio di Dio è il figlio in senso stretto proprio il figlio naturale il figlio figlio mentre i figli adottivi che siamo noi siamo figli nel figlio si chiamano in greco tecna d'accordo non con la stessa parola ora io sono figlio di Dio per antonomasia e quindi chi è il mio padre adottivo? è il padre eterno salvo le aberrazioni dell'età contemporanea perché nell'età contemporanea qui tra clonazioni fecondazioni eterologhe omologhe imprecologhe c'è stato tutto e di più ma nella natura può esistere un padre senza una madre? può esistere un figlio scusate senza un padre senza una madre? solo con un padre? no quindi attenzione se Gesù ha un padre naturale che è Dio padre e una madre naturale che è la Madonna io sono stato adottato da Dio padre sono figlio in Gesù d'accordo quindi c'è un padre adottivo non naturale che è il padre eterno e una madre adottiva non ce l'avrò chi è? è la Madonna quindi e tanto è vero che i padri della Chiesa dicevano non può avere Dio per padre chi non ha Maria per madre tra l'altro siccome Maria è tipo immagine modello ed esemplare della Chiesa i padri dicevano anche un'altra bella cosa d'accordo perché le figure di Maria è il tipo della Chiesa vuol dire che ciò che la Chiesa è deve essere è anche la Madonna quindi le cose dette tra le due ordinariamente sono quasi intescambiabili ci ho fatto la tesi dottorale su questo argomento e quindi insomma ne so qualcosa quindi cioè su Maria tipo della Chiesa e allora e che cosa succede la Madonna è nostra madre nell'ordine della grazia è madre adottiva che significa significa che ha generato naturalmente Gesù facendolo diventare uomo cioè attraverso la Madonna che è la madre naturale del figlio di Dio il figlio di Dio è diventato uomo attenzione e la sua funzione spirituale materna nei miei confronti qual è? sapete qual è? è il contrario che la Madonna mi prende che sono un figlio dell'uomo e attraverso la sua mediazione materna mi fa diventare figlio di Dio capite? la funzione materna ecco perché la la mediazione mariana è collegata anche alla maternità di Maria nei confronti di tutta la chiesa capite? tutta la chiesa e che significa? significa che la chiesa è stata in qualche modo generata e partorita alla grazia dalla funzione di Maria stessa questo l'abbiamo già in parte visto nella corredenzione ora attenzione è chiaro che questa funzione materna di Maria non esclude affatto né oscura l'unica mediazione di Cristo perché senza la figura di riferimento che è Cristo la Madonna non avrebbe ragion d'essere non solo ma la sua maternità spirituale nei nostri confronti è conseguenza della maternità reale effettiva naturale nei confronti di quella di nostro Signore Gesù Cristo e attenzione una bella domanda che dovete fare quando daste a qualche quiz quando è che la Madonna è diventata nostra madre? la prima risposta che ci verrebbe da dare a tutti è come quando Gesù dalla croce gli ha detto donna ecco tuo figlio figlio ecco tua madre no? ci verrebbe a tutti da dire che poi tra l'altro è il momento in cui è lasciato veramente partoriti con dolore alla grazia in quanto stava cooperando con Gesù la nostra redenzione soffrendo sotto la croce però c'è un però c'è un però quello non è il momento in cui lei è diventata madre nostra ma quello è il momento in cui la sua maternità si è compiuta nei nostri confronti si è manifestata è un po' come la Pentecoste la Chiesa non è nata a Pentecoste la Chiesa risalda da molto tempo prima e Gesù l'aveva già diciamo così strutturata in tutte quante le sue componenti fondamentali la Chiesa si è manifestata cioè è stata sigillata dallo Spirito Santo a Pentecoste e si è manifestata così sotto la croce la Madonna ha come dire sigillato nel dolore la sua maternità nei nostri confronti e Gesù l'ha manifestata facendogli quella quell'affidamento dalla croce donna e col tuo figlio figlio e col tuo madre ma quando è che la Madonna è diventata mia madre nell'ordine della grazia e quindi mediatrice di grazia sapete quando quando all'angelo l'alcangelo Gabriele ha detto ecci ancilla domini fiat michi secundum verbon tu perché diventendo madre di Cristo è diventata ipso facto madre nostra dà al figlio di Dio la natura umana e dà ai figli nel figlio la natura divina capite diventa madre naturale di Gesù e al tempo stesso madre d'ottima nostra i padri della Chiesa dicevano diventa madre del capo del mistico corpo di Cristo Cristo è il capo del corpo che è la Chiesa se accetta di diventare madre del capo diventa madre anche delle membra perché non si può essere questo lo schiava Luigi Monfort madre immaginate una mamma che fosse madre soltanto della della testa di una persona che partorise soltanto la testa impossibile ma se noi siamo le membra di Cristo tutti siamo stati nel grembo di Maria con Gesù misticamente attenzione ma misticamente dico anche realmente e quindi la Madonna realmente ci ha partoriti alla grazia è un parto alla grazia tanto è vero che la mediazione di Maria la mediazione universale si fonda esattamente sulla maternità spirituale che Maria ha nei confronti di tutti i discepoli di Cristo e per estensione dal momento che come diceva San Giovanni Paolo II con l'incarnazione in un certo senso e in un certo modo Gesù si è unito ad ogni uomo questo perché perché nessuno dei membri della razza umana questo mettiamocelo bene in testa è escluso dalla redenzione operata da Cristo nessuno ricordiamo sempre che all'inferno ci si va come auto-esclusione volontaria da questa incorporazione mistica che Gesù ha realizzato nel momento dell'incarnazione e che ha beneficato con la redenzione questo dobbiamo sempre ricordarlo d'accordo sempre quindi la mediazione è fondata sulla maternità cosa dice leggiamo e proseguiamo il commento la funzione materna di Maria verso gli uomini sottinteso da cui discende il suo essere mediatrice non oscura in alcun modo sminuisce l'unica menzione di Cristo ma ne mostra piuttosto l'efficacia ne mostra l'efficacia d'accordo perché è anche attraverso l'opera mediatrice di Maria Santissima che la redenzione operata dall'unico mediatore ci raggiunge ancora questo l'abbiamo detto tante volte ogni influsso salvifico della beata vergine sugli uomini non deriva da ragioni di necessità ma dal bene placido di Dio primo questo l'abbiamo visto anche a proposito della corredenzione era necessario che la Madonna corredimesse l'umanità non bastava una goccia del sangue di Cristo non era necessario la corredenzione di Maria stessa dipende dal bene placido di Dio cioè che Dio ha voluto che a fianco a suo figlio che bastava e avanzava per tutti per le ragioni che abbiamo visto a suo tempo a fianco al Redentore ci fosse anche la corredentrice a fianco al capo stipite dell'umanità nuova un maschio un uomo il nuovo Adamo ci fosse una femmina una donna la nuova Eva punto perché maschio e femmina li creò e insieme hanno cooperato alla propina dell'umanità e insieme cooperano alla restaurazione la mediazione di Maria forse che non basta che Gesù ha bisogno che qualcuno gli metta il ciuccio in bocca che non basta che ci sia l'unico mediatore non è buono a far bene il mediatore evidente no? assolutamente d'accordo assolutamente quindi anche questa funzione della madonna dipende sempre dal bene placido di Dio quindi non è una funzione di stretta necessità e nemmeno di necessità non stretta attenzione però dire che dipende dal bene placido di Dio non significa dire ah vabbè ma dipende dal bene placido di Dio quindi fa niente no? abbiamo già visto la volta scorsa perché quando Dio fa una scelta dipendente dal bene placido vuol dire che quella cosa che di per sé non sarebbe necessaria ma era migliore da farsi e una volta poi che Dio l'ha fatto noi non possiamo fare finta che non l'abbia fatto né bypassarlo la chiesa per esempio insegna che avere una devozione alla Madonna una venerazione alla Madonna non è un optional è necessario per la salvezza cioè se tu sei devoto a San Pio da Pietrelcina che è un colosso va bene ma addirittura a San Michele Arcangelo d'accordo? è una cosa lodevolissima ma se io non ho mai detto in vita mia la preghiera a San Michele Arcangelo metto a repentaglio la mia salvezza non si può dire in senso stretto sicuramente te perdi un sacco di benefici un sacco di grazie un sacco di protezione contro i diavoli ma non metti a repentaglio la tua salvezza ma se io non ho mai detto un'Ave Maria in tutta la vita mia metto a repentaglio la mia salvezza sì 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 perché l'Ave Maria non è un optional che perché la prima parte dell'Ave Maria come noi sappiamo è traslitterazione copia e incolla di due passaggi della Sacra Scrittura Ave Maria piena di grazie il Signore è con te sono le parole con cui la Madonna è stata salutata dall'angelo benedetta tu fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù sono le parole che gli ha rivolto Santa Elisabetta nella scena della visitazione quindi non è un optional d'accordo? perché la prima parte dell'Ave Maria teniamo presente che fino al Medioevo l'Ave Maria era solo la prima parte la seconda parte sta raggiunta in un secondo momento ma non solo fino al Medioevo fino a molto oltre il Medioevo perché Arano della Rupe il Beato Arano della Rupe che è il diffusore del Rosario se uno prende il libro Il Saltero del Beato della Vergine Maria parla della salutazione angelica e la dice la formula ancora largamente con la prima parte senza l'aggiunta della seconda non mi ricordo se in qualche passaggio la mette l'ho letto tanto tempo fa però stiamo già abbastanza avanti stiamo già oltre al Medioevo con il Beato Arano della Rupe quindi abbiamo una preghiera biblica d'accordo? quindi non è un optional qual è la spia? il fatto che la Madonna sia da sempre stata ricordata nella liturgia da sempre nelle preghiere caristiche il nome della Madonna c'è sempre adesso poi sappiamo che nel 62 il Beato Giovanni XXIII ha aggiunto il nome di San Giuseppe Papa Francesco alla preghiera caristica 1 che allora era quella nel rito antico c'era soltanto il canone romano e ci aggiunse il nome di San Giuseppe Papa Francesco ha colmato un po' questo gap perché noi ci troviamo con le preghiera caristiche adesso sono diventate 426 410 dopo la riforma del messale con la preghiera caristica 1 che nominavi San Giuseppe poi 2 3 4 riconciliazione 1 2 5 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 6 6 6 6 7 7 7 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 13 13 13 13 15 15 16 19 19 20 21 22 23 23 22 tantissimamente raccomandabile, sapete che Papa Francesco ha raccontato lui personalmente che quando gli cominciano a fare richieste di preghiere, 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 ma già dal Papa canta gente e dice prega per me, prega per me, io vedo qua quanti lo chiedono a me, immagino Poro Papa, dice che lui va dalla statua di San Giuseppe, o ci scrive in bigliettino con nome oppure gli dice San Giuseppe, pensaci tu, ricordateli tu che io ce la faccio a ricordarmi tutti quanti, chiappati a tutti quanti a San Giuseppe, perché San Giuseppe insomma è un grande sbancatore di grazie insomma anche lui, quindi comunque per dire dov'è la prova che la Madonna non è un optional dal fatto che non solo dal 62 in poi ma da sempre nella liturgia della Chiesa è stata nominata, sempre, quando noi vediamo, quando sentiamo parlare di liturgia ufficiale della Chiesa, vedete che per questo è così importante che ci sia anche per esempio una liturgia ufficiale della Chiesa, che ci sia anche una liturgia ufficiale nella preghiera della Chiesa, che è la liturgia delle ore, attenzione, tu dici, allora c'è la liturgia ufficiale della Chiesa, allora io recito l'Odi e Vespri e poi non faccio più nessun'altra preghiera, perché quella è la liturgia ufficiale della Chiesa, capite che discorso è, d'accordo? non è un discorso fatto bene, no? Quindi, capite l'esagerazione sotto tutti gli altri punti di vista, cioè, ah io vado a Messa e quindi non serve la preghiera personale, come non serve la preghiera personale, d'accordo? Ecco, io dico la liturgia delle ore, allora non serve il rosario, ma come non serve il rosario, d'accordo? Solo che il rosario è una preghiera di origine devozionale, d'accordo? Potentissima, fortissima, però la Chiesa ha una sua liturgia pubblica, ufficiale, quindi che in quella che crea una preghiera, come dire, perfetta, d'accordo? Sotto tutti i punti di vista, che ti fa, tra l'altro, essere, come dire, parte, membro, vivo, di un unico coro, che è appunto la voce della Chiesa, che come sposa sarà il nostro Signore, no? Quindi, guardate che è bellissimo avere, queste visioni, come dire, ampie, complete, ecco, delle cose, non unilaterali, non a compartimenti stagni, non faziose, non rigide, ecco, quindi guardare sempre in grande. Quindi, ogni influsso dal visico della bella vergine sugli uomini, abbiamo visto, non deriva da ragioni di necessità, ma dal beneplacito di Dio. Uno. Secondo, sgorga dai meriti sovrabbondanti di Cristo. D'accordo? In questo, capite? Anche la Madonna, ricordiamo sempre, che è la corredentrice, abbiamo visto, è però anche una redenta, in forma più sublime di tutti, certamente, ma la Madonna nel Magnificat dice, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. In vista di cosa? La previsione, in vista dei meriti di Cristo. Quindi la Madonna stessa dice grazie a Gesù per quello che ha operato per lei. Capite? Quindi, cioè, la Chiesa Cattolica non si è mai sognata, nemmeno lontanamente, di ignorare, non dico di dire il contrario, ma di ignorare questo punto, nemmeno lontanamente. Capite? Quindi, poi, si fonda sulla sua mediazione, cioè, come la corredenzione di Maria si fonda, dipende, dalla redenzione di Cristo, così la mediazione di Maria, come dire, il secondo è secondaria rispetto alla mediazione principale di Cristo, perché tutte le mediazioni e tutte le figure di mediazione nella Chiesa, tutte, sia quelle personali che quelle sacramentali, sono tutte derivanti, come da una sorgente, da Cristo unico mediatore, che ne è, come dire, il punto di riferimento fondante, assoluto, necessario, imprescindibile, fondamentale. Ok? E la mediazione della Madonna non fa eccezione a questo, quindi non è una cosa, come dire, che sta a fianco, ma è una cosa che sta subordinata, perché deve prima trarne l'efficacia dalla fonte e secondariamente funziona. Anche qui, dire che secondariamente funziona, eccetera, eccetera, non significa allora non serve. No! D'accordo, serve come? Lo vedremo quanto serve. D'accordo? Ma devo comprenderne bene, però, la posizione onde non andare a fare, neanche per eccessi indebiti, in questo caso di amore verso la Madonna, stupidaggini o affermazioni completamente fuori del mondo. False! Capite? Perché l'amore, per quanto possa essere grande, e debba essere grande, ed è auspicabile che sia grande l'amore nei confronti della Madonna, non può portare ad affermazioni esagerate, iperboliche, che nel corso della storia, perché il diavolo è furbo, capite? Hanno contribuito a creare danni, anche agli autori più grandi della Marianità, tra cui San Luigi Maria Monforte, che è stato accusato nel corso della storia di aver insegnato delle cose esagerate. Non è vero affatto se uno legge i suoi scritti, io li conosco quasi a memoria, insomma. Non è vero affatto, però, se tu prendi quegli scritti e li interpreti in un certo modo, e gli metti in bocca delle cose che lui non ha né detto né pensato, ma le pensi tu, perché hai capito fischio per fiasco, e quello poi chiaramente va a fare un danno non solo alla persona di San Luigi, ma all'opera che San Luigi ha fatto, che è insegnare la vera devozione alla Madonna, e questa è una cosa importantissima che si impari da parte dei fedeli. Il diavolo non vuole che questo accada. Ecco, ma alla virtù si manca sia con il troppo poco, cioè quindi sminuire la Madonna e la sua opera, ma sia anche con il troppo, quindi esaltarla in maniera indebita, sbagliata. La Madonna non è contenta di questo, né Gesù Cristo è contento di questo, capite? E anche qui ringraziamo e benediciamo Santa Madre Chiesa il suo soccorso, ed in un documento, le affermazioni che la Chiesa fa in un documento, sono sempre pesantissime, sono ponderate nei minimi dettagli, no? Quindi si fonda sulla sua mediazione e da essa totalmente dipende, quindi è dipendente, non solo, ma ne attinge l'efficacia. Quindi capite le cinque caratteristiche della mediazione mariana e così concludiamo. Uno, non deriva da ragioni di necessità, ma dal beneplacito di Dio. Due, sgorga dei meriti sovrabbondanti di Cristo. Tre, si fonda sulla sua mediazione. Quattro, da essa totalmente dipende. Cinque, da essa ne attinge l'efficacia. Ok? Ultima affermazione, che è in realtà una risposta a un'obiezione, dice, ah no, ma se tu ci metti di mezzo la Madonna, la Madonna mi ostacola il rapporto con Cristo unico mediatore. Quindi che bisogno c'è? Io voglio andare da Gesù Cristo e direttamente la Madonna mi ostacolerebbe. La Chiesa, Santa Madre, Chiesa risponde, nemmeno impedisce il contatto immediato, attenzione, immediato, dei credenti con Cristo. Nullo modo. Sed Fopet, dice in latino, ma lo favorisce, lo fomenta. Cioè, se tu vuoi avere un rapporto forte e immediato con Cristo, non solo che non devi avere paura di ricorrere alla Madonna, ma ci devi ricorrere. Perché è lei che te lo agevolerà, che te lo faciliterà. Perché se tu, questo San Luigi, le pagine fondamentali, se tu dici Maria, lei ripete Gesù. Avete visto quando noi andiamo su una montagna? Lei è l'eco di Dio, è l'eco di Gesù. Quindi se noi andiamo in una montagna e diciamo, Leonardo, mi torna indietro, Leonardo, Leonardo, ma se io vado nella montagna che si chiama la Madonna e dico, Maria, mi torna indietro, Gesù, Gesù, è così, non è uno scherzo, è così. Quindi la mediazione mariana, come vedremo, non solo che non tocca a niente, tutti che hanno paura che si toglie qualcosa a Cristo, che Gesù si con lui, ma quando mai? A Cristo non si toglie nulla, ma anzi ne vengono ulteriormente esaltate le funzioni primaziali e fondanti. E non si toglie niente nel rapporto personale di me con lui, ma perché anzi questo viene, cresce, viene favorito, ne riceve impulso e autenticità. Perché la Madonna tutto può permettere, tranne che io svalvolo e che perdo la via nel mio rapporto con Cristo. E San Luigi dice, quando anche potesse succedere che qualcuno dei servi di Maria caschi in qualche trappola satanica, in qualche inganno, in qualche tentazione, eccetera, eccetera, la Madonna lo tirerà fuori. Sicuro, 100%. Purché, mi permetto di aggiungere io tutto il rispetto di San Luigi e Maria Monfort, non si perde il punto di riferimento fondamentale che abbiamo visto nella prima parte di questa nostra conversazione odierna. Attenzione all'umiltà e all'importanza di riconoscere il ruolo fondante della mediazione ecclesiale. E quando vogliamo stare sicuri, rimaniamo sempre nella valle santa del giardino protetto e benedetto e irrigato dallo Spirito Santo, che è quello di Santa Madre Chiesa. Bene, ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Benedico tutti. Ave Maria. Grazie.